Caro Phil, io ascolto Radio Stella, dico bene, quando sono in macchina e così via. Allora siamo qui da Mauro al Disco Star, compriamo buona musica, mi raccomando. Uno dei pochi negozi che c'è rimasto a Modena, via Nobili 36, Disco Star. E tutti quelli di Radio Stella li mandiamo qua. Esatto, ascoltate Radio Stella. Ciao Mauro. Ciao, grazie.